E' di ieri la notizia di un'offerta da parte della iMobPay LTD, una società con sede a Cardiff, di un'offerta nei confronti del Palermo per acquistare il Palermo Calcio. Siamo con il suo responsabile legale Sergio Rosciglione. Gli diciamo intanto se la notizia risponde a verità. La notizia risponde a verità anche se vorrei precisare che la manifestazione di interesse che è stata inoltrata tramite anche il nostro legale a Zamparini non proviene da iMobPay LTD ma proviene direttamente dalla capogruppo che è una società finanziaria, un gruppo più che altro, di una società finanziaria che è con sede a Hong Kong. Questo è vero, non si può negare. Noi attraverso la sede inglese, quindi di cui io sono il director, abbiamo avanzato una proposta manifestando il nostro interesse a poter approfondire se si può effettivamente intraprendere una trattativa seria con Zamparini. Di cosa si occupa iMobPay? iMobPay è una società di telecomunicazione, nasce come operatore mobile, ha messo su tutto un sistema di una piattaforma informatica ad altissimo livello che ha già destato grande interesse in operatori economici di vari settori perché ha coniugato a quello che è la normale funzione di una SIM card la possibilità di essere collegata a dei circuiti bancari e quindi la SIM card si è trasformata da un semplice veicolo di voce e dati anche in un veicolo di prodotti finanziari, di prodotti bancari per cui attraverso la SIM si possono effettuare pagamenti, si possono effettuare bonifici. Chi sono i proprietari di iMobPay o comunque i proprietari di iMob Company Group? È una compagnia con sede a Hong Kong e in questo momento io ancora non sono autorizzato a palesare chi possano essere i veri proprietari reali che sono a Hong Kong e dirigono questo grosso gruppo finanziario. Intanto ieri alcuni articoli di stampa associavano il nome iMobPay Ltd e quello suo con l'imprenditore Salvo Castagna. Volevo capire se c'erano dei collegamenti anche perché da quello che riportano alcuni giornali la sede di iMobPay sarebbe nella stessa sede di Tourist Mobile Ltd il cui direttore della Tourist Mobile Ltd è appunto il dottore Castagna. Questo lo smentisco perché non capisco come possa essere venuta questa notizia perché la sede della iMobPay Ltd non è assolutamente mai stata la sede in Italia e solo a Piazza del Popolo non è mai stata da nessun'altra parte quindi non capisco come possano avere diffuso questa notizia. La mia conoscenza con il signor Castagna è reale perché io ho collaborato con lui in altri tempi, alcuni anni fa in un'altra azienda sempre che si dedicava a telecomunicazioni e abbiamo collaborato. Dopodiché questa società è stata chiusa, è stata sciolta e siamo rimasti buoni amici, buoni conoscenti anzi ho approfittato della conoscenza che ho di lui quando ho organizzato il concerto che si è tenuto il 31 di maggio a Piazza Castelnuovo perché siccome Salvo Castagna è introdotto sul piano musicale abbastanza bene che conosce un'infinità di cantanti anche di rilievo nazionale e attraverso di lui mi è stato facile organizzare questo evento. Con l'avvocato Anthony De Lisi invece facciamo il punto della situazione sulla trattativa. Esiste una richiesta formalizzata? Ha incontrato Zamparini o già c'è un incontro programmato? Detta così, mi perdoni, è molto semplicistica la domanda. Una proposta credo che se prima non si incontrano le parti non si possa formulare anche perché credo che così come anticipato il gruppo che è interessato all'acquisto prima mio tramite e anche tramite uno staff di altri colleghi e di commercialisti dovrebbe, quello che è la nostra intenzione, approfondire anche un aspetto pratico su quello che sono i libri, le scritture, la contabilità della società. Nello specifico e sul punto, proprio stamattina ho avuto conferma che oggi sarebbe stata una riunione all'interno della società credo che il presidente Zamparini sia in sede a seguito della quale sarò informato sulle modalità e i termini di questo incontro. Ma avete già un'idea dell'ordine della proposta che la società intende fare? Che Zamparini potrebbe valutare una proposta che si aggira non meno di 70 milioni di euro? Io non lo so, dico, se i giornali sanno più del presidente Zamparini comunque credo che sia anticipare un po' quello che sono gli elementi reali e oggettivi della vicenda. Ripeto, dovremmo prima capire lo stato dell'arte, cioè capire effettivamente qual è la situazione, l'esposizione della Palermo Calcio e a seguito di questa notizia è chiaro che credo che il gruppo da quello che ho avuto, credo di avere compreso dalle indicazioni che mi hanno dato formulerà la propria proposta. C'è la possibilità che iMobPay acquisti una quota di minoranza o siete interessati soltanto ad una quota di maggioranza? Il gruppo si è interessato all'acquisto totale ma non potrei escludere che in caso di una possibilità in tal senso il gruppo possa anche, perché credo che sia volontà principale più che un'attività di speculazione sia una voglia di rilanciare questa nostra bella città e quindi sia di restituire il Palermo Calcio ai palermetani sia quella, non possiamo escludere, che possa anche sorgere questa opportunità di partecipare insieme a un'altra accordata di imprenditori locali o anche di altri paesi.